Lei è forse un angelo. Mi aiuti. Supponga che lo faccia. Lei cosa farà per me? Qualunque cosa, qualunque cosa. Il mio nome è Cathy, Mary B. Cathy. E dov'è il signor Cathy? Vivo inesorabilmente da sola. Qual è il lavoro? Tre donne hanno perso il lume della ragione. I loro mariti non possono occuparsene. Io e lei le porteremo dall'altra parte del fiume, in Iowa. È il suo lavoro e ha giurato di farlo. È per questo che l'ho liberata. Sopportare tre pazze per cinque settimane è molto di più di quanto mi aspettassi. Sarà un viaggio lungo, difficile e pericoloso. Ne sono consapevole. Ci sono tre tipi di persone da queste parti. Quelli che non vogliono avere niente a che fare con i pazzi furiosi, i mercanti che vorranno violentarla e gli indiani che la violenteranno. Che cosa vogliono? Quello che abbiamo. Saremmo un'ottima squadra, noi due. Oh no! 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 Grazie a tutti